L'onora fa di Beretta Parazzini Gianfranco Intra, dirige l'orchestra del maestro Natale Massara, seconda esecuzione per Tony del Monaco. Cattedrale di pietra e sassi, mille statue che toccano il cielo. Perché non apri le tue porte per sentire questa mia preghiera? E' cambiata la mia sorte, tutto solo da stasera. Un'ora fa avevo lei, che si specchiava dentro gli occhi miei. Un'ora fa l'avevo qui vicino a me e mi ha detto domani non so se io ci sarò. Che male al cuore, se a colpirti è davvero l'amore. Perché le ore non si sono fermate con lei. Un'ora fa l'avevo qui vicino a me e mi ha detto domani. Un'ora fa l'avevo qui vicino a me e mi ha detto domani. Anima Grazie.